In questo punto rimandiamo alla musica, il compito è di restituire un'immagine sonora dell'ultima settimana visione. In questo punto rimandiamo alla musica, il compito è di restituire un'immagine sonora dell'ultima settimana. Il compito è di restituire un'immagine sonora dell'ultima settimana. Il compito è di restituire un'immagine sonora dell'ultima settimana. Il compito è di restituire un'immagine sonora dell'ultima settimana. Grazie a Massimo Piani, Luca Mattiuzzi.